Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione di Etg Mark in onda, come di consueto anche sul sito, sulla app e sulla pagina Facebook di Etv. In apertura la crisi di governo dopo le dimissioni del premier Draghi, i partiti fanno il punto e inizia la corsa al voto previsto forse per il prossimo 25 settembre tra possibili alleanze e partiti da ricostruire. Rivisitando il più noto adagio è proprio il caso di dire finito un governo se ne fa un altro. Il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi non fa in tempo a recarsi al colle per rimettere il mandato nelle mani del presidente Mattarella che già scatta il totodata per le prossime elezioni, tra le più plausibili il 25 settembre o il 2 ottobre. Di certo per prepararsi alla prossima tornata elettorale i partiti dovranno prima rimettere in ordine in casa, in particolare il Movimento 5 Stelle e Forza Italia che dalla crisi sono usciti frammentati. Di ieri l'annuncio dell'uscita dal partito di Berlusconi del ministro Maria Stella Gelmini a cui oggi si è accodato anche il ministro Renato Brunetta. Tra i senatori marchigiani ha lasciato anche Andrea Cangini che nell'intervento di ieri a Palazzo Madama aveva annunciato il suo sostegno al governo in controtendenza con il partito degli Azzurri. Abbiamo votato la fiducia al governo Draghi per 55 volte, ho ascoltato il discorso che Draghi ha fatto a questa aula del Parlamento. Non c'è un fatto politico che giustifichi un cambio di voto, almeno da parte mia. L'ho votata 55 volte la fiducia, la voterò una cinquantasesima. A perdere pezzi ben prima della crisi anche il Movimento 5 Stelle e la fuoriuscita più clamorosa a fine giugno è stata del ministro Luigi Di Maio, grillino della prima ora, adesso fondatore del gruppo parlamentare Insieme per il Futuro. Una vera e propria scissione a cui si sono accodati 51 pentastellati. In realtà la storia del Movimento è stata costellata negli ultimi anni da numerosi abbandoni e adesso di certo ci sarà molto su cui lavorare. Lo stesso impegno forse anche di più servirà ai PF che al momento dovrà capire se aprire o no la partita per le prossime elezioni, come racconta Patrizia Terzoni, unica a 5 Stelle nelle Marche ad aver seguito Di Maio. Se ci ripresenteremo onestamente dubito perché i tempi sono anche molto stretti, non avevamo ancora neanche pensato ad una nostra ricandidatura. Molti pensano che noi siamo andati con Luigi Di Maio proprio per tenerci la poltrona. In realtà se volevo la garanzia di ricandidarmi sarei dovuta rimanere o con il Movimento 5 Stelle o andare in un partito già formato. Al lavoro per aprire un dialogo a possibili compagni di coalizione il Partito Democratico, le stesse forze politiche con cui fino all'ultimo ha tentato di garantire la fiducia al governo Draghi fino ai risicati 95 sì registrati alla votazione in Senato che hanno messo fine al lavoro del Premier. Tagliaviva, azione di calenda, insieme per il futuro Di Maio, Verdi, articolo 1, insomma sì sono forze politiche con cui si è iniziato a dialogare e con cui si potrebbe costruire un fronte comune. Però ovviamente queste sono tutte considerazioni che faremo negli organismi nazionali. Soddisfazione per il ritorno al voto da parte della Lega. Il partito di Matteo Salvini aveva dettato punti molto chiari per continuare a garantire il sostegno al governo Draghi messi nero su bianco in una risoluzione che in realtà lasciava poco margine di manovra e cozzava con la volontà espressa dal Premier di un patto di governo di Unità Nazionale. Abbiamo ascoltato il discorso di Draghi che è stato un discorso sinceramente di chiusura. A quel punto abbiamo deciso che questo governo non meritava più la nostra fiducia. Il tempo delle elezioni è arrivato, il tempo di ridare la parola degli italiani. Spero anche che si ricompatti questa maggioranza intera di centrodestra formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E sulla data delle prossime elezioni ovviamente vi terremo aggiornati anche nel corso delle prossime edizioni. Ma dalle elezioni nazionali passiamo alle amministrative del prossimo anno. Ieri l'ufficializzazione della candidatura di Carlo Maria Pesaresi alle primarie del PD per Ancona 2023. Verso le elezioni comunali di Ancona l'anno prossimo ma il primo appuntamento sarà quello con le primarie del Partito Democratico. In autunno al Parco del Pincio si presenta ufficialmente Carlo Maria Pesaresi, avvocato, un passato da assessora alla cultura per la provincia di Ancona e alla guida del consorzio Marche Spettacolo. Sfiderà l'assessora al porto e al piano strategico della città, Ida Simonella, prosecuzione naturale della sindaca Mancinelli. Credo che le primarie siano uno strumento meraviglioso per riaccendere la partecipazione in città e la voglia di discutere dei temi della politica che riguardano il futuro di Ancona. Non c'è strumento migliore anche per riaccendere la voglia di fare politica e la voglia di tornare ad occuparsi del bene comune. Parola chiave, confronto e dialogo. Queste due parole saranno per noi il binario su cui camminerà tutta la campagna. Il confronto e il dialogo oggi sono presupposti indispensabili per onorare la concretezza necessaria nella nazione amministrativa. Ritrovare la centralità di Ancona. Riappropriarsi della parola capoluogo, riaffermare con forza il ruolo di responsabilità che Ancona deve avere nei confronti del resto del territorio e della regione. È un'assunzione di responsabilità che però va esercitata a Roma come a Palazzo Raffaello e va forse abbandonato un certo isolamento in cui la città di Ancona si trova su alcuni tavoli. Poi la questione giovanile. Bisogna riaccendere la città, ricreare spazi, spunti di socialità, riaprire luoghi di frequentazione, che sono anche luoghi di creazione di imprese. Da questo punto di vista è un'Ancona più viva. E se mi posso permettere, la strada della repressione non è da questo punto di vista la strada giusta, né è solo un problema di movita, è un problema di futuro di questa città. Non ce l'ha fatta Gabriella Lazzari, la donna di 59 anni, cuoca della mensa cittadina del comune di Fabriano, che ieri mattina era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla provinciale di Frassassi a Genga. Dopo un giorno di agonia, si è spenta all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. La donna era arrivata già in condizioni critiche. L'invasione di corsia e lo schianto contro un camion non le hanno lasciato scampo. Il comune di Fabriano ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il sindaco, l'amministrazione, il consiglio comunale e tutti i dipendenti esprimono profondo cordoglio. Verso la riorganizzazione del piano sanitario nelle Marche, il confronto sui territori, scontro però atteso in Aula. Forso gli appuntamenti sui territori in attesa dell'approdo in consiglio regionale prima di ferragosto e poi l'entrata in vigore a gennaio 2023 della riforma della sanità varata dal governo Acquaroli. Lo scontro politico tra maggioranza e opposizione sarà inevitabile. Secondo il PD, con il commissario Lossacco, la nascita delle cinque aziende sanitarie territoriali e la scomparsa dell'Azur non risponderanno ai bisogni dei cittadini e il provvedimento potrebbe essere addirittura impugnato a livello nazionale. In questa fase è in corso il confronto in vista della riorganizzazione con gli operatori sanitari. Qui siamo a Senigallia. Una volta approvata la legge di riforma, poi saranno i piani e gli atti successivi di attuazione della legge a incidere sull'ordinamento, sull'organizzazione sanitaria regionale. Abbiamo detto che la legge 13 è la cornice e il quadro vogliamo dipingerlo insieme al personale. Evidentemente sono emerse situazioni di particolare disagio per gli uffici sforniti di personale come il pronto soccorso ed altri, ma abbiamo anche spiegato quali sono le misure che la regione ha adottato, in particolare l'aumento del finanziamento delle borse di specializzazione che potranno fornire nei prossimi anni almeno un numero di medici maggiore rispetto a quelli che attualmente vanno in pensione. Oggi il rapporto è meno medici che entrano in servizio rispetto a quelli che andranno in pensione. Da domani, dal prossimo anno, con l'aumento delle borse di specializzazione portato a 150, finanziamento integrale della regione per una spesa di 5 milioni di euro, farà sì che i medici che entrano in servizio saranno superiori a quelli che vanno in pensione. Questo soprattutto nel territorio perché là mancano medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale. E ora restiamo in tema sanità ma vediamo gli ultimi dati che riguardano il Covid. Performance in peggioramento nelle Marchi nella settimana dal 13 al 19 luglio per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, mentre c'è un solo un lievissimo aumento, più 0,6% rispetto alla settimana precedente. I casi per 100.000 abitanti positivi sono 1.489. Nella stessa settimana sono sopra la media nazionale i posti letto in area medica, 20,5%, mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva, 3% occupati sempre da pazienti Covid-19. La percentuale di positivi over 5 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'8,8%. La media italiana è al 7,7%, a cui aggiungere la popolazione over 5 temporaneamente protetta in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, in questo caso pari al 6%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose, che lo ricordiamo attualmente è aperto agli over 80, agli ospiti di RSA e fragili e alla fascia tra i 60 e i 79 anni, è del 4,1% di molto sotto la soia nazionale, che è invece all'8,3%. 28 sindaci della provincia di Macerata chiedono a Valeria Mancinelle, presidente di Anci Marche, di rivedere la nomina di Franco Capponi, sindaco di Treia come rappresentante Anci della cabina di regia della ricostruzione post-sisma. Semplicemente abbiamo chiamato perché oggi stiamo mandando alla presidente dell'Anci regionale e alla sindaca di Ancona Mancinelli una lettera firmata da 28 sindaci dove chiediamo semplicemente una cosa, di essere ascoltati. Essere ascoltati e partecipi delle decisioni è questo l'obiettivo della lettera firmata da 28 sindaci del cratere maceratese e indirizzata a Valeria Mancinelli, presidente Anci Marche. La questione è quella della nomina di Franco Capponi, sindaco di Treia, quale rappresentante Anci Marche alla cabina di regia della ricostruzione post-sisma. È evidente che i problemi del sisma vanno rappresentati da chi li vive quotidianamente. C'è un'ordinanza, la numero 101, che individua quello che è il cratere più distrutto, più danneggiato. È altrettanto evidente che le tematiche delle bollette dei nostri cittadini che vivono all'interno dei container dove non si può mettere una stufa, dove non si può fare economia, quella abituata che in montagna eravamo abituati a fare sistematicamente, poi crea quell'impasse di attività che chiudono. Questo può essere rappresentato, ed è solo un esempio, dai cittadini che vivono in questi territori. Per questo chiediamo che ci sia un rappresentante del cratere ristretto. Avevamo indicato il sindaco di Arquata del Tronto. Lo abbiamo indicato per dignità, in quanto è il comune che ha avuto i morti nella regione Marche ed è un comune estremamente danneggiato, quindi poteva tranquillamente rappresentare tutti. Sul sisma non si possono fare scelte partitiche, bisogna fare scelte politiche che rappresentino tutti. Dunque, con tutto il rispetto e la considerazione che merita la figura di Franco Capponi, sindaci uniti contro la sua nomina. Se lei non ci dà un incontro, decideremo anche un po' di sospendersi dal lanci terremoto, non dal lanci globale, ma dal lanci che si interessa del terremoto. Ad Ancona i capolavori della Johannesburg Art Gallery nella mostra Cose dell'altro mondo da Monet a Warhol. La Pinacoteca Civica di Ancona si prepara ad accogliere Cose dall'altro mondo, che non è solo una mostra d'arte, ma una massiccia iniziativa culturale che vedrà l'esposizione di artisti che vanno da Monet a Warhol, arricchendo le marche di capolavori che non avevano mai messo piede prima nel territorio. Questa è una grande mostra internazionale che arriva nella nostra Pinacoteca in un bellissimo momento, in un momento in cui la Pinacoteca sta crescendo. Questa è una collezione bellissima, è una collezione del museo d'arte della città di Johannesburg, della più grande collezione d'arte d'Africa. Sono circa 65 dipinti che vanno dall'impressionismo fino a Andy Warhol, quindi da Monet a Matisse, a De Renne, a Picasso, a Bacon, a Andy Warhol e la ospitiamo all'interno della nostra collezione. Cose dall'altro mondo verrà inaugurata il 27 agosto e propone 63 opere della sudafricana Johannesburg Art Gallery e sarà divisa in quattro sezioni che abbracciano diversi tempi e geografie. Secondo lei, una mostra così imponente, no? Qual è la sua necessità in una città come Ancona in questo momento storico? C'è una necessità di carattere culturale, prima di tutto, cioè quella di consolidare un'istituzione come la Pinacoteca che per diversi anni è stata chiusa o comunque ha lavorato a mezzo regime. Da qualche anno è partita con grande forza, ma ha bisogno di entrare in un circuito nazionale e internazionale da cui era stata lontana per diverso tempo. Sono 24 i comuni delle Marche insigniti della bandiera arancione e riconoscimento del Touring Club sulla qualità turistico-ambientale dei piccoli borghi dell'entroterra. La cerimonia dei consegni dei vestigli si terrà quest'anno a Ripa Tranzone in piazza 20 settembre e domenica 24 luglio. La new entry del 2022 è Cingoli che va ad aggiungersi alle 23 conferme con 24 comuni insigniti. Le Marche si piazzano ai primi posti della classifica precedute da Piemonte e Toscana. Sono seguite infine da Emilia Romagna con 23 riconoscimenti. Festeggiamo questa mattina il grandissimo risultato dell'atleta anconetano delle Fiamme Oro Tommaso Marini che ai mondiali assoluti di Fioretti del Cairo ha conquistato la medaglia d'argento ad una sola stoccata dalla vetta del mondo. Così scrive su Facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, splendida impresa del giovane atleta alla sua prima partecipazione mondiale, dice il presidente. Congratulazioni! Questa era la nostra ultima notizia. Io mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito augurandomi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci!